Sei una persona ordinata? Precisa? Organizzata? Ecco, non è il video per te. Questo video è dedicato a tutte quelle persone creative, impulsive, emotive, quelli come me insomma, che vogliono fare mille progetti e poi si perdono perché si annoiano nel ripetere sempre le stesse cose. Però la verità è che per fare un bel progetto di video marketing, per riuscire a comunicare bene con il video in maniera continuativa, serve ordine e disciplina. Immagina l'elefante come quello che c'è qua alle mie spalle. Come si mangia un elefante? Lo sanno tutti, si mangia un boccone alla volta. Quindi devi trovare un sistema per creare una tua routine, qualche cosa che renda meno stressante l'idea ogni volta di fare un nuovo contenuto video. Cioè devi fare in modo che questa cosa ti entri proprio come un automatismo, la mattina per esempio, o la sera, o quando ti viene più congeniale, creare questi contenuti video. Il mio suggerimento è, dedica magari una mezza giornata a fare questo tipo di attività e accorpa insieme un po' di materiale, in modo tale che ti metti davanti alla telecamera o alla webcam solo una volta, magari alla settimana, una volta al mese. Non deve essere un tormento ogni volta che deve uscire un contenuto, ripensare a fare tutto di nuovo. E quindi questo è il primo suggerimento. Il secondo suggerimento che mi sento di darti, se il tuo blocco è di tipo emotivo dovuto al fatto che hai paura di stare davanti all'obiettivo, allora al primo momento accantona l'idea di stare davanti, come faccio io adesso, e pensa a creare contenuti dove questa cosa non ti è richiesta. Contenuti dove ad esempio tu vai a fare delle analisi. Quindi fai un voice over, una voce narrante con delle immagini di copertura correlate a quello che tu stai raccontando. Può essere un'analisi di mercato, un tuo punto di vista su quello che sta succedendo nella tua particolare filiera, può essere il commento a una notizia. Ecco, questo tipo di contenuti li puoi fare benissimo senza parlare in video. Un'altra categoria di contenuti che puoi fare, se ti spaventa appunto stare in video, è fare dei video tutorial. Se tu hai un servizio che si svolge online, un software, un programma, un applicativo, una procedura online, la puoi benissimo raccontare in un video dove c'è solo la tua voce. Ma anche se produci un macchinario, potresti raccontare questo macchinario, le sue funzioni, i benefici solo con la voce. Quello che vedo difficile farlo solo con la voce è fare un'intervista dove c'è una persona che compare. È chiaro che se c'è una persona che compare nel video e tu gli fai domande fuori campo, fa un po' strano, soprattutto se fai un'intervista online. Ok? Potresti invece fare un'intervista dove compare per il 95% quella persona, ma all'inizio della fine si deve comunque vedere. Quindi, queste sono piccole strategie per superare la paura iniziale e fare in modo che tu riesca a instaurare la tua routine di creazione di contenuti video. Perché la cosa bella è che quando inizi a crearli questi contenuti, a interagire con le persone, ti verrà voglia di apparire davanti alla telecamera e dare il tuo punto di vista col tuo bel faccione. Quindi all'inizio magari non lo farai, ma col tempo vedrai che questa cosa ti viene naturale. Consiglio molto pratico, terra terra, fatti un Excel con una tabella delle uscite dei contenuti che vuoi fare. A me la parola Excel, guarda, mi ha fatto l'orticaria. Io proprio odio Excel, non lo so usare. Però una schifosissima tabella, anche con un Google Sheet online, riesco a farla. Quattro colonne, metti la data, l'argomento e ti obblighi a pubblicare quei contenuti video. La data, ci sono due le date, una è la data di pubblicazione del contenuto, l'altra è la data di fattura, di quando lo vuoi realizzare questo contenuto video. Quindi inizia con cose semplici che non richiedono particolare montaggio, come questo mio contenuto fatto direttamente con la telecamera, con le date al computer, con un green screen, e poi man mano ti vai ad approfondire. Quindi l'elefante si mangia un boccone alla volta. Non farti prendere dallo sconforto, dall'ansia di non riuscire a far tutto. Fai piccoli passettini conseguenziali, una cosa alla volta e vedrai che riuscirai a portare a termine il tuo progetto e aumentare il tuo livello di comunicazione, di proiezione verso l'esterno di ciò che fai. Perché ricordati sempre che quello che fai tutti i giorni è arrivato nella tua vita dopo un lungo percorso lavorativo, di studio, di esperienza, di relazioni con il prossimo, per cui è bene e giusto che tu lo comunichi all'esterno. È un dono che tu fai verso gli altri. Pensa a questa attività come un dono che fai agli altri, cioè comunicare e condividere con gli altri la tua esperienza, le tue capacità. Fare in modo che anche gli altri possano beneficiarne, fare in modo di emergere in ultima analisi come un esperto nella tua categoria professionale, come un punto di riferimento. Perché alla fine tutto questo cinema si riduce a questo. Fare in modo di essere percepito donando agli altri qualche cosa, come una persona rilevante in quella categoria merceologica, come una persona di cui ci si può fidare e in ultima analisi come una persona dalla quale vale la pena attivare una relazione commerciale. Quindi se vuoi vendere di più, migliorare il tuo business, pensa seriamente a creare contenuti video un passettino alla volta.